ciao a tutti oggi proviamo imparare il cerchio perfetto noi lavoreremo senza maglia bassissima questo cerchio non da angolazione adesso andiamo lavorare prendiamo il filo facciamo cerchio magico prende tira il filo si gira così poi io ho usato uncinetto 4,0 mm passa nel cerchio prende il filo si tira interno il cerchio riprende il filo passa interno il primo nodino questa qua non conta come maglia adesso prima maglia passa sempre dentro il cerchio prende il filo ripassa due quando due figli passa tutte e due insieme questa prima maglia bassa prima maglia bassa noi faremo senza maglia bassissima quindi mettiamo sempre segna punti abbiamo fatto il il primo adesso facciamo il secondo lo stesso modo quando ce n'è due prende alla bassa due 6 maglia bassa adesso tiriamo tiriamo il filo e chiudiamo chiudiamo il cerchio tirando questo filo qua tiriamo così si chiude il cerchio adesso da qua togliamo il segno punti noi dobbiamo lavorare senza maglia bassissima quindi da qua inizia secondo giro facciamo prima prendiamo il filo dietro rimanente colleghiamo insieme adesso prima maglia bassa di secondo giro questo qua è molto importante bisogna mettere sempre se no perdiamo i punti allora lo stesso punto bisogna fare un'altra maglia bassa il secondo giro fa bisogna fare ogni maglia 2 maglia bassa quindi un aumento ogni maglia un aumento per sei volte diventa il 12 maglia bassa allora abbiamo finito ho fatto 12 maglia bassa in tutto adesso iniziamo terzo giro terzo giro lavoreremo un aumento un aumento una maglia bassa quindi intanto mettiamo 1 2 maglia bassa lo stesso punto quindi un aumento che abbiamo fatto mettiamo sempre le segna punti secondo maglia bassa una maglia bassa adesso un aumento nello stesso punto 2 maglia bassa e una maglia bassa ripetiamo tutto il giro per sei volte adesso adesso iniziamo il quarto giro togliamo segna punti subito facciamo maglia bassa questo giro fa due maglia bassa un aumento abbiamo fatto già uno 2 maglia bassa terzo un aumento Quindi una maglia bassa, due maglie bassa, un aumento, una maglia bassa, due maglie bassa e un aumento. Ripetiamo per sei volte. Adesso iniziamo il quinto giro. In questo giro faremo uno, un aumento, due. Una maglia bassa, mettiamo sempre segna a punti iniziali del cielo, poi subito dopo un aumento, poi il terzo, una maglia bassa, un'altra maglia bassa dopo. Quindi una maglia bassa, un aumento, altri due maglia bassa. Ripetiamo per sei volte. Allora adesso iniziamo il sesto giro. Allora il sesto giro fa quattro maglia bassa, un aumento. Abbiamo fatto una maglia bassa, mettiamo sempre segna a punti, due maglia bassa, tre, quattro maglia bassa, mettiamo un aumento. Uno, due, tre, quattro maglia bassa e un aumento. Facciamo per sei volte. Questa volta finisce con un aumento. Adesso iniziamo il settimo giro. Questo giro due maglia bassa, un aumento, tre maglia bassa. Facciamo prima maglia bassa. Seconda maglia bassa, un aumento. No, ho sbagliato. Un aumento. Non sbagliate come me. Un aumento. Secondo william per sei volte. Un aumento. Iniziamo. Quel comportamento raccogliere come me. Un aumento. Guardate. Un aumento. Non puoi. Two. What is one of my next? Poi. 2 maglia bassa 3 maglia bassa ripetiamo per 6 volte poi torniamo ottavo giro 6 maglia bassa e un aumento abbiamo fatto la prima maglia bassa 2 3 4 5 6 maglia bassa 3 7 e un aumento questo è un gruppo 1 2 3 4 5 6 maglia bassa e un aumento ripetiamo per 6 volte iniziamo il nono giro prima 3 maglia bassa intanto facciamo il primo poi mettiamo il segnapunti questo giro 3 maglia bassa un aumento 4 maglia bassa adesso secondo terzo maglia bassa qua quarto fa no un aumento 1 e 2 poi dopo va 4 maglia bassa 1 3 4 questo è un gruppo 3 aumento 4 3 un aumento 3 e 4 maglia bassa ripete per 6 volte decimo giro 10 8 maglia bassa un aumento intanto facciamo una maglia bassa e mettiamo segnapunti quindi abbiamo fatto una quindi altre 7 maglia bassa 1 2 3 4 5 6 8 5 6 6 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 16 14 15 16 16 17 18 18 19 19 18 19 a lavorare come abbiamo fatto fino adesso così non diventa il cerchio angolato sarà sempre cerchio perfetto come adesso vi lascio scritto accanto come aumentare il cerchio buon lavoro ci vediamo prossimo video ciao ciao ciao